Musica Benvenuti allo spazio dedicato all'informazione sportiva su Noi TV. Apriamo con la lucchese ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Solo un pareggio per la squadra di casa. Rosso Neri in vantaggio nel primo tempo e riagganciati nella ripresa sull'ennesima distrazione difensiva. Ma ci racconta tutto Guido Casotti. Al Moccagatta di Alessandria, desolatamente con spalti vuoti, lucchese a caccia del riscatto contro la Juventus Next in battuta nel 2024. Prima fase di studio con un tiro di Di Santo che è simile a fondo campo. Poi al sedicesimo la lucchese si porta in vantaggio. Cangianiello, alla prima rete stagionale, scaraventa l'incrocio dei pali. Nulla da fare per il pur bravo D'Affara. Al ventesimo ancora Rizzopinna impegna il portiere Juventino. I rossoneri ci mettono tanta grinta, anche se il gioco non fluisce preciso, e concedono poco spazio ai bianconeri di Brambilla, che si rendono vivaci solo al trentaduesimo con Palumbo, che sollecita Chiorra. Nel finale del primo tempo si chiude un po' troppo la lucchese, che non riesce più a ripartire. Si va a riposo comunque con i rossoneri, in vantaggio per 1-0. In avvio di ripresa la Juve ne cambia 2. Lucchese troppo passiva in questi primi minuti e al quinto puntualmente viene punita. Turicchia si infila come lama nel burro dalla sinistra e mette in mezzo per Anghele, che fa 1-1, collocando il pallone all'incrocio dei pali. Adesso prova a scuotersi la Pantera. Tumbarello, tra i più positivi, spaventa D'Affara con una botta dal limite. Poco dopo viene ammoniuto Tiritiello e rendi fida. Il capitano salterà la trasferta di sabato a Pescara. Ancora una botta di Magnaghi su ripartenza di Tiritiello. Sfortunata la lucchese poi al venticinquesimo, su doppia conclusione prima di Magnaghi e poi di Sabbione, il migliore in campo con D'Affara. Quattro minuti di recupero ma non succede altro. Finisce 1-1. Risultato stretto. Troppo stretto per una lucchese che soprattutto nella ripresa si è fatta di gran lunga preferire. È comunque un punto e una prestazione confortante. Sabato prossimo trasferta a Pescara. La stagione è ancora lunga, difficile e complicata. E ancora calcio ma scendiamo in serie D. Nel commento di inizio settimana affidato a Reo e Ilepore, l'analisi delle vittorie del Real Forte Quercetta e Ghiviborgo. Vittoria pirotecnica del Ghiviborgo sul Ponsacco per 4-3. Vantaggio dei locali con Carcani, poi il pareggio di Panattoni, ma l'Epi riporta ancora avanti i ragazzi di Nicolelli. Poi Carcani allunga ma il Ponsacco conieri segna ancora. Il novantesimo è Orlandi per i locali e innocenti per gli ospiti ad andare in gol. Difesa distratta del Ghiviborgo, capitolata per ben tre volte. Il Poggi Bonzi è stato superato dal Real Forte Quercetta per 1-0 con il gol del capitano Pietro Pegollo, proprio nei minuti di recupero della partita. La squadra di Buglio ha creduto fino in fondo in questo successo e compie un passo in avanti verso la salvezza. Invece beffato il Seravezza Pozzi con il Sansepolcro al novantesimo, 1-0 la sconfitta per il gol di Esossi. Nel secondo tempo la squadra di Amoroso ha giocato quasi sempre in dieci uomini per l'espulsione avvenuta di Salerno al tredicesimo, ma è arrivata la beffa nella finale. Per quanto riguarda il tau calcio, sconfitta in casa nell'anticipo 2-1 dal Livorno, vantaggio dei locali con Zini, pareggio di Giordani su rigore, gol partita di Tanasa al settantesimo. Vittoria che porta verso la vetta della classifica, i Labronici in eccellenza, Castelfiorentino arriva il Pieve 1-4, per quanto riguarda Massese-Fucecchio 6-1, Colio Pelli-Camaiore 0-1, in promozione Viareggio-Settimello 1-0, Castelnuovo-Lunigiana 2-0, Monsummano-Pieve-Fosciana 1-1, Pitrasanta-Sanpiero-Sieve 3-2, Viaccia-Sanmarcavenza 1-4, riposava il lampo. E ora il tennis, cattive notizie per Musetti, pesante sconfitta per l'atleta carrarese ai sedicesimi di finale del Qatar Open. Il 21enne è stato infatti battuto dal cinese Zhang Zizhen, che si è imposto nettamente in due set, col punteggio di 6-2, 6-0. Musetti conferma di attraversare un periodo di crisi da cui purtroppo stenta a riprendersi. E per questa edizione del TG Sport è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con i programmi di Noi TV. Musetti conferma di attraversare un periodo di crisi da cui purtroppo stenta a riprendersi. Musetti conferma di attraversare un periodo di crisi da cui purtroppo stenta a riprendersi.